Segretario, lei è qui a Lucca, però intanto a Roma si sfida con gli esodati, ecco questo è un problema, ci sono anche problemi con le cifre, 65.000 da Fornero e altri numeri. Ma intanto fatemi dire che se si fosse dato retta nella nostra opinione non avremmo avuto questo problema. Noi eravamo come è noto, abbiamo detto da tempo, per un meccanismo di uscita flessibile, 62-70, con meccanismi di incentivazione e disincentivazione che avrebbero consentito anche le imprese di fare accordi aggiuntivi, insomma no, per favorire nei casi condivisi anche l'esodo. Adesso ci si trova davanti, l'abbiamo sempre detto, un buco, un problema. E quindi prima cosa avere una ricognizione attenta di questo problema, è abbastanza curioso che i dati del governo e quelli dell'Inps non siano coincidenti. No, capirsi, ecco. E adesso io non ho il pallottoliere, però non voglio che stia a piedi nessuno. Ecco, quindi adesso ci faremo un'opinione che con gli strumenti tecnici necessari, certamente non è facilissimo individuare tutta la platea dei casi che ci sono creati, perché ci sono anche casi singoli che vanno considerati, e tuttavia guarderemo con attenzione su questo tema, non si scherza, cioè noi, cioè in nessun posto in Europa esistono casi nei quali uno si trova a 58 anni, 59, 60, senza pensione, senza salario e senza ammortizzatori. Non esiste, quindi adesso ci guardiamo fino in fondo e questo problema, come abbiamo sempre detto in tutti i vertici, in tutte le riunioni, va risolto e sarà risolto.